Basta pedaggi su A24 e A25. È la proposta di Fratelli d'Italia formulata stamane in conferenza stampa all'Aquila dal capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida in città per la campagna elettorale di Pierluigi Biondi. Ad accoglierlo, oltre al sindaco uscente e ricandidato, il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, l'assessore alle aree interne Guido Liris e il coordinatore di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi. La strada che abbiamo fatto votare dal Parlamento è quella di dare la possibilità a zone che sono disagiate, che hanno spesso solo l'autostrada per essere raggiunta, siano trattate diversamente, si mette in condizioni i cittadini di avere agevolazioni tariffarie fino alla gratuità per quelli che possono e debbano viaggiare per ragioni di lavoro, sanitarie e di studio. Questa tratta autostradale è l'unico modo per raggiungere luoghi di lavoro e quindi è un investimento per lo Stato per garantire con pochi milioni di euro questo tipo di opportunità. Vi convince l'idea del governo di rinazionalizzare le autostrade? Il problema è una gestione corretta, ci vuole una strategia. In questi anni, in particolare, che hanno visto al governo il Partito Democratico, non c'è stato nulla di strategico. Si è andato al limite a tamponare qualche emergenza. Noi immaginiamo invece un tessuto nazionale che venga ricostruito avendo una visione. La visione è quella di rendere le aree deboli di questa nazione economicamente più forti grazie a degli interventi mirati. Una domanda più politica. Il vostro sindaco, Pierluigi Biondi, ricandidato, da cui Fratelli d'Italia poi ha avviato la scalata anche in regione. Immagino sia una città a cui tenete particolarmente. L'Aquila è un simbolo di buon governo. Ogni volta che io torno all'Aquila, in questi cinque anni mi è capitato molto spesso, vedo ritornare la bellezza di questa città, quella che l'ha resa famosa nel tempo e nella storia. E questo lo dobbiamo a Pierluigi Biondi e a Marco Marsilio che ha sostenuto l'amministrazione. E quindi la continuità in questa città sarà decisiva per portarla ai fasti che merita. Ci sono le politiche. Fra un anno questo voto amministrativo a livello nazionale, che cosa potrà dire? Può dire molto perché credo che votare Fratelli d'Italia sia una scelta che dà anche un indirizzo di natura politica. La coerenza, il coraggio, le capacità, la lealtà dimostrata da Giorgia Meloni sono ormai un simbolo acclarato. E anche nel voto amministrativo questo dato può essere rafforzato dai cittadini con il loro consenso.